Per quanto riguarda il risparmio, risparmiare, cercare di spendere di meno per poter vivere con pochi soldi e magari un domani anche liberarsi dalla schiavitù del lavoro, perché comunque se riesci comunque a raggiungere dei livelli veramente di spesa bassi ti puoi anche magari permettere, non dico di liberarti del tutto, ma magari anche di fare un part time e quindi vivere con meno soldi. Quindi risparmiare sui prodotti per l'igiene, risparmiare sui prodotti dell'igiene personale e risparmiare sui prodotti dell'igiene anche per la casa. Allora, non è il caso di arrivare ad utilizzare il bicarbonato per tutto, che non costa niente, c'è chi comunque è arrivato a quello, ok? O c'è chi è arrivato a dei livelli ancora molto più bassi, ma che secondo me è completamente sbagliato. La cosa più giusta da fare per poter risparmiare, per potere, questo qui, era una cosa che io avevo in mente già 4-5 anni fa, questo discorso del risparmio, dei prezzi. Io sono nato sui prezzi e perché, diciamo, adesso sono tornato ancora su questo discorso, sul discorso del risparmio, sto insistendo, ho aperto anche una playlist su investimenti, il risparmio, perché costa troppo tutto in Italia, io sono nato facendo vedere i prezzi in Germania come le cose costavano una cretinata su un mare di prodotti e allora sono tornato di nuovo alle origini, magari ritornerò ancora in Germania a farvi vedere in altre parti. Per risparmiare sui prodotti dell'igiene, per risparmiare sui prodotti, diciamo, personali, bisogna che la gente si organizzi in maniera, diciamo, un gruppo di amici, un gruppo di amici, di amiche, non lo so, 3-4 persone, e vadano a prendersi tutta questa serie di prodotti in posti dove se tu fai una spesa di 100 euro è come se in Italia ne avessi spesi 400, ma voi vi rendete conto? Nei magazzini tedeschi, tedeschi, penso il Müller o anche Rosman o altri, quanto costa? Là c'è anche il DMG, l'hanno aperto anche in Italia, però i prezzi sono molto più alti, là veramente fanno paura, fanno paura. Ragazzi, e allora, la Germania è meno lontana di quello che si... Io prendo per il centro-nord Italia, prendo per il centro-nord Italia, ok? Ragazzi, uno del mio paese, se va a Venezia, se va a Venezia, va bene, va bene, va bene, se invece te ne vai già subito a Valheim-Rein, subito dopo Pasilena, entri in Germania, lì ci sono tutti i negozi che volete, cioè ci arrivate su in quattro ore, in tre ore e mezza arrivate, basta andare appena passate chiasso, ci vuole il bollino della tua strada, 35 euro, siete un gruppo di tre, quattro amici, partite in quattro, ok? Spendete, cosa spendete? 7-8 euro di bollino, ok? 7-8 euro di bollino, vi fate la benzina a Mendrisio, ok? E spenderete fra andare e tornare non più di 50-60 euro di benzina, ok? Quindi spendete 25 euro per uno, spendete 25 euro per uno, partite una mattina, vi fate una bella zingarata, ok? Potete partire tranquillamente anche dalla Liguria, potete dalle Miglia, potete partire anche dalle Marche, magari una volta all'anno, dal Nord Italia la potete fare due, anche tre volte all'anno, facciamo due volte all'anno, che una volta che avete reso il bollino vi dura per tutto, per un anno, ok? Svizzero, in Germania le autostrade sono ancora gratuite fino ad oggi, e poi vabbè se andate subito dall'inizio, e andatevi, fate una spesa di 100-150 euro per uno, e vi portate a casa prodotti, prodotti dentifrici, ma voi rendete conto che sono i prodotti dentifrici, i sensitive dent che costano 47, 45 centesimi, 50 centesimi, i shampoo che costano 45, 40 centesimi, prodotti per la casa, non costano niente, là è tutto sotto l'un euro, vi fate due borsate per uno, tre amici, quattro amici, anche in tre, vi riempite la macchina di dietro, ok? Tanto potete tranquillamente prendere una spesa del genere di 70-80-100 euro, lo fate due volte all'anno, lo fate due volte all'anno, e avete già, se andate su una volta, e avete i prodotti per i prossimi 5-6 mesi, ci andate due volte all'anno, potreste andare anche una volta all'anno, se fate una bella spesa, magari ne fate 150, e avete già risparmiato 300-400 euro, e avete risparmiato 300-400 euro, perché se tu ne spendi 100-150, e ne risparmi 350, e ci metti 30 euro fra bollino e cosa? Hai risparmiato 300 euro, e questo si può fare due volte all'anno, magari vi vedete anche qualche bel posto, e per me risparmiare è quello che poi, ragazzi, io ve lo dico chiaramente, è quello che faccio io, io faccio così, faccio così, io vivevo in Germania, oggi dovrò ritornare, vado là, faccio una spesa super, che per un anno, un anno e mezzo sono, mi riempio mezza macchina, mi prendo tutto, sciampi, dentifrici, prodotti per la casa, tutto, mi prendo tutte quelle cose lì, è un risparmio incredibile, se addirittura, addirittura, se avete un furgoncino, lo potete fare in 8-10 e non spendete niente praticamente, spendete 10 euro di benzina, 5 euro di benzina, cioè, la gente si deve organizzare, si deve organizzare, per risparmiare sui prodotti della casa, per risparmiare sui prodotti dell'igiene, bisogna andare in Germania, ok? E la Germania non è così lontana, sono 4 ore di macchina, 3 ore e mezza di macchina, 3 ore e quattro, meno di 4 ore se parti da Como, ok? Ok? Non è così lontana, se non stai a Como ti fai altre 2 orette, 6 ore vai e poi, per non farti la scarpinata, ti puoi tranquillamente, visto che comunque ne risparmi 300 euro, potete anche fermarvi in una guest house, in un bed and breakfast, che pagherete 25, 27, 28 euro, lo trovate, lo cercate su Booking, da quei 300, magari ci mettete un giorno, ci andate magari al sabato, alla domenica mi raccomando che sono chiusi tutto, partite il sabato e ci tornate il giorno dopo, se proprio volete ancora risparmiare, portatevi in una tenda, andatevi in un campeggio e avete risparmiato pure quello, per modo di dire, ragazzi, bisogna fare così per risparmiare.